E per accorciare la distanza che separa le istituzioni dei cittadini, ritengo importanti anche alcune scelte simboliche, come quella di rinunciare totalmente ai voli di Stato, totalmente ai voli di Stato, totalmente ai voli di Stato, totalmente ai voli di Stato. Quando mi sposto e mi sposto molto, uso la macchina, vado in treno o in aereo, con voli di linea ma anche low cost. Mi pare che sia la prima volta per un Presidente della Camera.